I giorni in cui combattevi per il cosiddetto bene superiore sono finiti. Abbiamo l'occasione di controllare la verità. I concetti di giusto e sbagliato per tutti nei secoli a venire. Tu combatti per salvare un ideale che non esiste. Non è mai esistito. Scegli da che parte stare. 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 Scegli da che parte stare.